Il discorso sulla media education parte chiaramente da lontano, ma fondamentalmente credo che si sia concretizzato negli ultimi decenni e anche se forse la definizione è corretta, totale, profonda di questa disciplina è ancora in fase di elaborazione, però certamente c'è un dato di fondo, cioè l'importanza dell'immagine che parte dal cinema, con i suoi derivati, la televisione, internet e così via, pone dei discorsi molto seri per quanto riguarda l'aspetto educativo, quindi gli operatori come il MED in questo campo credo che debbano operare fondamentalmente per inverare sempre più quello che è il concetto di libertà, cioè creare degli individui, dei cittadini che abbiano piena consapevolezza del loro essere all'interno di una società dove l'immagine ha certamente una funzione invasiva, pervasiva, quindi l'importanza appunto di educare attraverso i media alla libertà, perché bisogna intervenire fino dai primi passi nella vita, perché poi la conoscenza del mondo da parte dei bambini e dei ragazzi viene attraverso l'immagine. Quindi saper decodificare, leggere, impostare questi strumenti è un dato sul quale viene giocata fondamentalmente la nostra libertà.